Bene, allora adesso andiamo immediatamente con gli auguri di Ventania Gorizia TV da Do di Battaglia dei Poo, la storia continua! E allora, eccolo qua, mi fa vedere il nuovo CD che ha avuto un successo, è appena uscito il giorno 20 come noi, ha sbancato proprio in tutte le parti, guardate qua. Do di Battaglia, la storia continua! Bene, questa è una bellissima cosa, adesso sentiamo i saluti di Do di Battaglia. Ecco, allora abbiamo con noi Do di Battaglia che noi l'abbiamo filmato nel 2003 qua al Perla, visto che oggi noi festeggiamo i vent'anni di attività, ecco, volevo un saluto dal grandissimo Do di Battaglia. Un augurio per il Perla? Un augurio per la TV, Gorizia TV oggi festeggia vent'anni di attività. Allora grazie, vent'anni e auguri, vent'anni sono mica pochi eh! Io ho il know-how di vent'anni, cosa vuol dire, perché hanno festeggiato i cinquanta, so bene cosa vuol dire. Oh, in bocca al lupo, che vi devo dire? Oggi esce in maniera particolare il mio disco, che oggi è il 20, voi festeggiate vent'anni. Esatto. Io ho poco più di vent'anni, per cui vedi che tutto torna. Porta bene proprio. Ok. Esatto. Senta, intanto grazie mille e buon lavoro. Bene, allora partiamo immediatamente col concerto. Lo ringrazio per gli auguri per i vent'anni. Il suo long play, il suo CD è uscito proprio il giorno 20 e sono sicuro che porterà veramente tanta fortuna sia a lui che a noi, visto che noi siamo arrivati ai vent'anni. però lui festeggia coi Pugia quasi cinquanta e farà una grandissima festa, una grandissima festa a Bologna il giorno 1 di giugno, ricordatevi il prossimo anno del 2018. Adesso ascoltiamo il, visto che siamo stati autorizzati a filmare due canzoni, ascoltatevi il concerto, ci vediamo alla fine. Grazie mille e buon lavoro. 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 il mio generale, eccola qua l'autografo, più ha preso il cd del grandissimo Dodi e devo ricordare i Poo, sono veramente nel mio ricordo con la grandissima piccola Katie